Per gli amici di Daily Basket con Gino Westaferro. Gino, questa era una partita importantissima, seconda partita in casa. Nell'ultimo quarto, come ha detto anche Marques, avete cacciato gli attributi perché si sono rifatti sotto dopo che avevano chiuso al terzo quarto meno 10 ma questa squadra non ha mollato e ha portato a casa una seconda vittoria fondamentale per poter andare fuori casa con un vantaggio combo di 2-0. Sicuramente è stato così, vorrei aggiungere solo che aspetto a gara 1 abbiamo approcciato sicuramente meglio la gara, il primo quarto è stato molto eco, poi abbiamo pigliato un minimo di vantaggio però effettivamente poi le partite vanno fino alla fine e alla fine che si vedono le squadre vede e io penso di poter dire che arrivato a questo punto non ci sono tutti, noi lo siamo. Per cui adesso affronteremo sicuramente tutte le gare con un piglio diverso perché siamo consapevoli che possiamo adeguarci a qualsiasi squadra che incontriamo. Grazie Grazie Grazie